Amici di Moto.it, ciao a tutti sempre dallo stand Honda perché non è arrivata soltanto l'Adventure Sports che trovate qui su YouTube ma è nuova nel motore anche l'Africa Twin classica, la CRF1000L Cosa cambia? Cambia in modo molto importante il motore perché riceve il Ride by Wire che sarebbe il controllo elettronico dell'acceleratore e questo porta con sé le mappe, abbiamo diverse mappe e il controllo di trazione settabile su 7 livelli Adesso Luca è già andato da solo sulla strumentazione perché è tutta nuova Vedete che è sempre digitale ma è meglio regibile rispetto al passato mentre sono confermati i blocchetti elettrici dall'Africa Twin Vedete il blocchetto questo, sempre col claxon che qualcuno trova un po' indigesto però è lo standard classico della Honda Le colorazioni sono state riviste nelle grafiche e un altro dettaglio nuovo in casa Africa Twin riguarda lo scarico con questo doppio fondello di uscita Quindi Africa Twin invariata ma con un importante aggiornamento elettronico del motore che ha anche una risposta più pronta ai bassi regimi perché è stato rivisto l'airbox ed è anche più leggero il controalbero